Il convegno dal titolo Le donne dell'Afghanistan tra la difesa dei diritti e perle di libertà. Questo convegno ovviamente dal titolo sostiene comunque la storia delle donne in Afghanistan che ancora oggi si battono per difendere i propri diritti, i diritti fondamentali per la tutela della persona. Perle ha a che fare con un'iniziativa di 15 anni fa quando arrivarono a Pesaro dall'Afghanistan due sorelle, due giovani afghane molto motivate e bravissime che volevano diventare registe di cinema. Avevano una possibilità che trovarono nella missione italiana nella città di Erat dove appunto ebbero assistenza, indicazioni utili e una possibilità di raggiungere l'Italia. Arrivati in Italia vennero a Pesaro e qui a loro volta incontrarono una grandissima ospitalità, una bella accoglienza da parte dei cittadini che venendo a sapere di questo loro sogno di diventare registe si prodigarono anche come amministrazioni, quindi anche come istituzioni locali, quindi la provincia di Pesaro Urbino, la regione Marche, si prodigarono per trovare le risorse che consentissero a queste due ragazze di andare negli Stati Uniti. È una storia lieto fine perché effettivamente raggiunti gli Stati Uniti e le due sorelle trovarono una possibilità di frequentare una scuola di regia e dare vita a tutta una serie di attività professionali in campo cinematografico che le hanno portate oggi a firmare il loro primo film. È stato un evento significativo e importante per la nostra provincia, come doveva essercene un altro che era l'orchestra femminile dell'Afghanistan Zora invitata qui dall'orchestra Olimpia che è sempre un'orchestra tutta al femminile e che aspettevamo con ansia per ascoltare i loro concerti però dopo quello che è successo in Afghanistan di queste ragazze si sa ben poco cosa stiano facendo o cosa non stiano facendo. Di sicuro hanno annullato tutte le tornee che avevano in Europa e questo ancora più va a determinare quella che è la situazione delle donne in Afghanistan che è una situazione veramente di grosso pericolo per le donne. Vogliamo rappresentare un segno di solidarietà verso donne che vivono in una società nella quale per motivi politici è tornata ad affermarsi una visione tradizionalista che da sempre limita i diritti delle donne e non permette loro di andare a scuola liberamente oltre un certo livello primario, di frequentare il liceo e l'università di seguire la loro vocazione nelle professioni e tutto questo non è accettabile bisogna cercare, a nostro parere, sempre con modalità comunque non violente e di consenso ma cercare di offrire un'alternativa a queste persone.